E' una streggio della postura. Ok. Poi faremo il giro a coppia, lo faremo tutti insieme, quindi a giro d'ondo. E poi sarà il turno degli uomini e infine proveremo a coppia. Quindi adesso lo balleremo singularmente, quindi tutti in cerchio. Ok, facciamo una prova e vediamo come va. Due giri. Allora, giudiamo. Una gamba qua da perno. Allora, giudiamo. Allora, giudiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.